Buongiorno a tutti, io vi ringrazio a nome dell'associazione e al nome del Fashion Weekend di Taranto per la vostra presenza. Bene, allora iniziamo questa puntata con la professoressa Patrizia Capobianco, lei è appunto il dirigente scolastico del CPA, Centro Provinciale Istruzione Adolti, un evento, quello di oggi, che ha una dimensione davvero internazionale, un evento moltiplicatore, lo diciamo in italiano se dovessimo usare la terminologia inglese, Multiplier Event. E allora, come si legge? Proprio perché c'è una dimensione internazionale, passiamo dall'inglese all'italiano, we play, we learn, we teach, noi giochiamo, noi impariamo, noi insegniamo. E il CPA ha voluto essere il capofila di questa sfida. Una realtà, appunto, un progetto che vede coinvolte varie realtà scolastiche internazionali con la finalità didattico-educativa partendo dal gioco, in una dimensione internazionale che vede coinvolti numerosi paesi. Ma io non ho altro da dire, ci illustrerà lei. Intanto, una curiosità, come è nato questo progetto, come è balenata questa idea? Allora, intanto questo progetto di così ampio respiro internazionale nasce all'interno dei progetti Erasmus, progetti europei che finanziano le mobilità e finanziano percorsi di ricerca insieme agli altri. Questo progetto di evento moltiplicatore è un evento particolare all'interno di un progetto Erasmus, perché in Italia i coordinatori di questo progetto sono la Romania, però hanno previsto in Italia uno degli eventi moltiplicatori. Cioè noi presentiamo in questa giornata uno dei prodotti del progetto, cioè una piattaforma. Una piattaforma nella quale sono inseriti le attività di simulazione di gioco e apprendimento. Cioè noi stiamo facendo una ricerca come il gioco può veicolare l'apprendimento e non solo, come possono veicolare i contenuti disciplinari. Abbiamo visto esempi come, per esempio, l'utilizzo della matematica in un gioco come la battaglia navale o giochi per l'insegnamento della lingua straniera. La grande sfida è come insegnare anche agli adulti attraverso il gioco. Per noi è un piacere poter avere all'interno del nostro programma, che dura tre giorni, da oggi fino a domenica, questo convegno. Ho subito accolto l'idea della Preside di riunirci, perché per la nostra associazione quello che è importante è fare rete. E questo sicuramente ne è l'esempio basilare. D'altronde, proprio il gioco, da un punto di vista proprio formativo, didattico, e se vogliamo, negli asili, ecco, negli asili facciamo un esempio, il gioco è propedeutico all'apprendimento, a quelle che saranno poi le realtà scolastiche. Quindi è giusto, proprio come percorso logico, partire dal gioco in maniera così leggera per arrivare all'acquisizione di nozioni, ovvero l'apprendimento. Uno dei problemi fondamentali dell'apprendimento è creare motivazione. Se io non sono motivato, se io non gioisco di fronte a un contenuto, io non ricordo quello che ho appreso. Il momento del gioco è un momento in cui possiamo sistematizzare le conoscenze, quindi ha una duplice valenza, la valenza di motivazione e anche di sistematizzazione dei contenuti. Vi invitiamo a essere presenti anche i nostri ospiti nei prossimi tre giorni a diffondere l'iniziativa del Fashion Week. Un ringraziamento di nuovo a tutti, da parte del nostro staff, della nostra organizzazione e della persona anche della Preside che ci ha voluto ospitare quest'oggi. Un saluto e vi do una buona continuazione da oggi. Grazie. Un progetto internazionale, lo dico scorrendo così le bandiere, vedo la Romania, la Polonia, il Portogallo, la Turchia, la Finlandia, l'Italia e la Spagna. La Grecia. Dicevo quindi in una civiltà e in un mondo multietnico io penso che questo sforzo da parte vostra abbia proprio una valenza di finalizzata a superare questi cortili, specialmente oggi in un mondo in cui ci sono dei pericoli per quanto riguarda proprio il carattere multiraziale della società. È un modo per unire i popoli, unire le civiltà con un comune denominatore che è il gioco e quindi lo scopo, l'obiettivo, la direzione, apprendimento. Sì, noi oggi abbiamo tante modalità per metterci in contatto con l'Europa. Non dimentichiamo che esistono delle reti internet che facilitano questi percorsi, questi processi. Cioè noi veniamo in contatto con gli altri anche attraverso la multimedialità e pensiamo che all'interno di questo evento si presenterà anche il gioco come evento non solo della tradizione ma anche quello che è il gioco virtuale, come è possibile mettere in contatto popoli a distanza anche sul gioco. Sicuramente il gioco è come la lingua, unisce. L'evento multiplayer è un particolare momento di pubblicizzazione di opere d'ingegno realizzate all'interno di un progetto Erasmus che nel nostro caso è un K2 We Play, We Teach, We Learn. Il C.P.A. indubbiamente ha realizzato questo evento ma c'è una grande organizzazione alle spalle. Tanti i soggetti coinvolti, le professionalità didattiche coinvolte. Il C.P.A. intanto ormai è una scuola di ampio respiro. Noi, essendo anche una scuola che prevede all'interno una unità formativa e per unità formativa si intendono tutte le collaborazioni con gli enti esterni. Quindi noi collaboriamo con università, con associazioni, con enti di formazione professionale, con comuni, regioni e abbiamo costruito una rete territoriale di servizio. Nella nostra rete territoriale sono inserite le scuole di secondo livello, ex scuole serali e qui ci sono oggi, in questa giornata, molti rappresentanti. Quindi il C.P.A. non è mai da solo. Cioè il C.P.A. è una scuola che unisce perché è una rete di scuole. Vi mostrerò adesso invece un gioco molto molto conosciuto, questo è davvero un gioco internazionale. Quindi passiamo da un gioco caratteristico della Romania, un gioco invece davvero internazionale che credo tutti quanti qui conoscano. Ed è il... questo viene presentato dalla Spagna e il gioco è il Simon Says. Simone dice... Siamo con la professoressa Cinzia Perniola, coordinatrice del progetto, lei è una progettista, non insegna in questa scuola ma ha coordinato appunto il progetto. We play, we learn, we teach. Come detto, noi giochiamo, noi impariamo, noi insegniamo. Ecco, le caratteristiche di questo progetto, appunto attraverso il gioco si ha ovviamente una finalità e una valenza didattica. Come è nata questa idea, i risultati che ha avuto e poi ovviamente nel prosieguo le ulteriori esperienze, applicazioni che ci saranno? Allora, questo progetto nasce da altri progetti precedenti nell'ambito dei programmi europei. Per la scuola e in questo caso per l'istruzione adulta. Ci siamo sempre occupati e da anni che ci occupiamo di educazione non formale per gli studenti adulti, informale e non formale. L'educazione non formale degli adulti passa attraverso varie attività. Il gioco è una di queste attività. In passato ci siamo occupati anche di cinema, ci stiamo ancora occupando di fotografia, ad esempio. Sono tutti espedienti, sono tutti educational tools, cioè attività didattiche, per poter insegnare agli adulti in un modo diverso. Ci stiamo occupando adesso di giochi. I giochi tradizionali delle nazioni coinvolte in questo progetto. Ci sono diverse nazioni europee coinvolte in questo progetto. La scuola coordinatrice che è la Romania, poi ci siamo noi dall'Italia, c'è ancora il Portogallo, la Spagna, la Grecia, la Turchia. Le scuole presentano questi giochi che vengono utilizzati come espedienti educativi. Io lo utilizzo spesso in classe, è uno dei preferiti dai miei ragazzi. L'età va dai tre anni in poi, davvero tutti i bambini, tutti quanti possono partecipare a questo gioco. Si gioca normalmente con una classe intera, si gioca all'interno normalmente, non ci sono materiali necessari. Ecco, professoressa, questi giochi permettono anche di scoprire nuove culture, perché ovviamente ogni paese ha un proprio background di tradizioni, appunto di storia. E attraverso questi giochi si ha anche un'esperienza così, comparativa con altre realtà. Sì, dicevo prima nella presentazione che questo è l'anno europeo del patrimonio culturale, cultural heritage, il 2018 è stato definito in questo modo. Ed è, appunto, si va alla riscoperta di quelle che sono le tradizioni, la cultura, la civiltà di ogni singola nazione all'interno dell'Europa, proprio per scoprire differenze, ma anche somiglianze, per poter lavorare insieme verso un futuro migliore. Quindi alla riscoperta delle nostre tradizioni e per costruire un futuro migliore. I giochi fanno parte di questo, quindi è veramente un progetto molto interessante, che dà la possibilità alle nazioni di scoprire somiglianze e differenze. In che cosa consiste il gioco? Il gioco consiste nel dare delle indicazioni, anzi degli ordini, ai ragazzi. Per esempio, se io dovessi dare a voi, platea, degli ordini, tipo alzarsi in piedi o sedersi o toccare la testa o chiudere gli occhi o qualsiasi altro ordine. Però prima di dare un ordine, devo dire Simon Says, devo dire Simone Dice, se manca l'ordine, l'ordine non deve essere messo in pratica. Qual è l'età media? Dei partecipanti al progetto? Allora, noi partecipiamo al progetto come CIPIA di Taranto, quindi i nostri studenti hanno dai 16 anni in poi. I nostri studenti sono per lo più NET, l'acronimo sta per ragazzi che hanno bisogno di nuove competenze, di acquisire nuove competenze per poter essere integrati nel mercato del lavoro, ma anche per poter costruire una vita migliore. Per quanto riguarda invece le altre nazioni, gli altri partner coinvolti, ci sono scuole, ci sono comprensivi, ci sono scuole medie, quindi secondarie di primo grado. C'è anche una scuola speciale per non vedenti, quindi davvero è un partenariato misto, molto particolare. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti a Taranto. Ora presentiamo anche il futuro del gioco e i giocatori nel futuro. Angela Toritto, Associazione Eterna, tanto impegno per quanto riguarda proprio il mondo del gioco. È un'associazione che è specializzata in queste attività ludiche, che sono ovviamente propedeutiche all'apprendimento, attraverso l'insegnamento, come stiamo vedendo oggi. Un'associazione che opera da anni, sono almeno sei anni, mi pare. Ecco, parliamo del vostro apporto in questo progetto come associazione rispetto al gioco. Sì, allora, l'Associazione Eterna nasce da un progetto di voler, attraverso l'utilizzo del gioco, sensibilizzare innanzitutto la società, quindi la rete sociale, i rapporti sociali, e si è affacciata al mondo della scuola, iniziando dei progetti. Qui a Taranto poi nasce l'Associazione Eterna, ormai da oltre sei anni, capostivite di una serie di iniziative, e attraverso il gioco supportare le attività extracurriculari e curriculari, non solo, anche con i diversamente abili, con delle disabilità intellettive. Quindi i nostri esperti hanno fatto dei percorsi, grazie anche all'interazione con l'estero, dove la gamology è molto più diffusa, e portandola nel nostro paese. Tutto questo sacrificio ha portato anche alla realizzazione, sempre qui a Taranto, prima e unica in Puglia, della biblioteca Fantasy Silmarillion, di cui l'associazione ne è proprietaria, specializzata in fantasy gaming e videogaming, e che aderisce al polo della Biblio Rete. Questa opportunità che abbiamo avuto con l'Erasmus Plus è stata veramente una crescita esponenziale, proprio l'interazione con i sette paesi membri e collaborare con il CPA, che ringraziamo, ha dato vita a un progetto molto importante, del quale noi chiediamo anche all'amministrazione comunale, e non solo, di porre particolare attenzione per un progetto condiviso, magari anche coinvolgendo il provveditorato agli studi, che è sempre molto disponibile. Il presidente dell'associazione Ternia, Ternia perché richiama il mondo di E-Man e i dominatori dell'universo, E-Man, master of the universe. Do you know? E-Man? Sì, yes, bella cosa che direi, scusami. Ecco, l'evoluzione dei giochi negli anni, attraverso le generazioni. Ma io non sono un matusalemme, però ricordo, ho 45 anni, ricordo ai miei tempi, 30 anni fa, 35 anni fa, 35 anni fa, si giocava con le cinque pietre. Oggi ormai è tutto digitalizzato, un bambino di 3-4 anni ha uno smartphone e sa fare di tutto. Ecco, vediamo proprio l'evoluzione dei giochi attraverso le generazioni, attraverso le va il ricambio generazionale. Sì, allora, il gioco è vero, si giocava alle cinque pietre, ai più tranquilli, chiamato in gergo tecnico a Stragali, perché un tempo si utilizzavano queste ossicina. Io ricordo, andavamo all'isola di San Pietro e sul traghetto si giocava con le cinque pietre. Oggi, se vai da un bambino e dici giochiamo alle cinque pietre, il mondo è cambiato. Scesi poi all'isola di San Pietro si trovava anche un pino per giocare a manno e zuzù, per i più caparmi. Quindi, diciamo, sì, adesso non è che è cambiato, è cambiata la struttura e il modo di comunicare. Quello che noi proponiamo è proprio un percorso, non è un ritorno alle origini, un percorso che va dalla tradizione al futuro, inserendo anche la realtà aumentata e virtuale, però facendo riscoprire il piacere del gioco sociale parlato insieme agli amici, con un ginocchio anche sbucciato, non è detto, non ci accadeva niente, siamo sopravvissuti. Gioco della campana, famoso. La campana con tutte le sue varianti, quindi fare storia, fare attività insieme, però non bisogna dimenticare che in questa epoca la diffusione e la comunicazione avviene tramite piattaforme multimediali, ma ciò non significa non fare delle esperienze reali. Il gioco di ruolo, per esempio, per noi è molto importante perché può riportare indietro nel tempo, anche in ambientazioni medievali o magno-greche, i partecipanti. Ciò significa abbandonare la tecnologia e crearsi un personaggio, un background e relazionarsi con gli altri. Multiplayer events on PC and console, multiplayer with League of Legends, World of Warcraft, e anche la creatività con Minecraft, il progetto Minecraft. Adreno Creeper, boom! Allora, noi ci occupiamo, siamo scarti di gioco, gioco della tradizione, gioco da tavolo, gioco di ruolo, di ruolo dal vivo, forse l'art, live action role play. Ecco, per concludere, le realtà virtuali che sembrano spersonalizzare i partecipanti, ma che forse hanno una loro umanità, un loro carattere di contatto comunque, e avere un contatto significa un rapporto umano, no? Certo, è un'esperienza immersiva, soprattutto quella della realtà virtuale, quindi con l'utilizzo di Oculus Rift, ma non solo. Adesso ci sono anche dei sensori che consentono di poter scannerizzare parti del corpo, se non la totalità del corpo, e immergersi nell'esperienza di un mondo virtuale, dove diciamo che l'azione positiva è quella di poter magari domani incontrare giocatori sparsi nel pianeta. So, good morning, buongiorno a tutti, I am Daniele Catozzella, I am an educator... Daniele Catozzella dell'Associazione Eterna, lui ha un blog educare digitale. Nel suo intervento ha fatto riferimento al gioco digitale, alle sue interazioni ai fini dell'apprendimento. e ne parlavo prima con la sua collega Toritto, i tempi sono cambiati, oggi siamo in una realtà virtuale, digitale, ma il gioco digitale, ancora la sua valenza, la sua importanza, crea ancora un rapporto umano, un rapporto così, non possiamo dire faccia a faccia, face to face, però ecco cerchiamo di comprendere le valenze, l'importanza proprio ai fini didattici, educativi. Sì, ovviamente siamo in un periodo di trasformazione in cui la realtà quotidiana degli studenti, e di tutti i ragazzi è fatta per gran parte all'interno di ecosistemi digitali, questo rappresenta una serie di criticità, ma anche una serie di potenzialità, le criticità sono quelle relative appunto agli aspetti educativi e agli aspetti diciamo meno sicuri del sistema rete o del sistema di contesti social e quant'altro, con quello che anche vediamo, le potenzialità però sono anche molte, è indubbiamente ormai una parte della realtà quotidiana di ciascuno e non può non essere considerata. Al tempo stesso, come sostenevo nel mio intervento, rispetto al gioco educativo digitale non può essere una sostituzione del gioco tradizionale che rimane e permane nei suoi valori anche di trasmissione culturale, ma può sicuramente migliorare alcuni aspetti, soprattutto laddove i contenuti didattici vengono effettivamente inseriti nei giochi educativi digitali. Questo è il più grande lavoro che va fatto all'interno della scuola e anche la più grande sfida rispetto a chi vuole utilizzare sistemi digitali per l'educazione e per la didattica. Allora, io sono Daniele Catozella, sono un educatore assistente sociale, ho un blog che si occupa di fornire ai genitori strumenti per l'educazione digitale nei miei docenti. Inoltre faccio parte dell'equipe del centro di domotica sociale di Tarantor, che si occupa di fornire strumentazioni tecnologiche dopo una valutazione a persone con disabilità o persone anziane e poi lavoro in un servizio di amministrazione della giustizia che supporta le persone che scelgono che possono avere sanzioni alternative rispetto al carcere. Ecco, quando ci siamo incontrati, presentati, si parlava un po' così, educare digitale, questa realtà digitale tra luci e ombre. Quali le luci e quali le ombre? Ci sono delle ombre che in realtà possono essere affrontate con un'educazione e un attivismo maggiore all'interno delle famiglie, per i quali io attraverso il blog fornisco una serie di strumenti pratici, perché in realtà il motto del blog ha anche lo testimonia, non cambiano i modi di educare, ma cambiano le sfide. In realtà il sistema digitale non ci pone delle nuove sfide dal punto di vista educativo. Gli strumenti dell'educazione restano gli stessi, l'esempio è anche la partecipazione dei genitori con i figli alla vita digitale, però indubbiamente bisogna mantenere l'attenzione rispetto all'utilizzo di questi strumenti digitali, ma non esclusivamente con un sistema di regole che a poco portano con i ragazzi, ma soprattutto con una partecipazione attiva insieme a loro, un'educazione continua e costante al digitale all'interno della famiglia. Ad esempio io propongo nel mio blog di creare delle nuove domande quotidiane, quelle che un tempo erano le domande che arrivavano ai ragazzi dopo la scuola, come è andata, si è stato interrogato, adesso si può aggiungere qual è il video su YouTube che va di più in questo periodo, che cosa dice Facebook, per appunto partecipare alla vita digitale dei ragazzi. La mia presentazione è sulla transizione dal gioco tradizionale al gioco educativo digitale. Daniela, metti più vicino se lo potessi. So, first of all, I want to speak about the meaning of from, because I don't... E quindi educare digitale, questo sistema digitale vuol dire anche internazionalizzazione? Assolutamente sì, il digitale non ha delle barriere, non ha dei limiti nel momento in cui io entro nella rete, posso andare in qualunque luogo del mondo, questo sicuramente favorisce l'apertura verso contesti, in realtà che prima non potevo conoscere dalla mia singola città, però ed è anche stimolante per i ragazzi questa apertura al mondo, ma è uno degli ulteriori aspetti che vanno considerati quando diamo al nostro figlio delle regole rispetto all'utilizzo del web. C'è un mondo virtuale dell'Unire, cioè del Ministero della Pubblica Espulsione, che da qualche anno ha intrapreso questa strada dei mondi virtuali come Second Life. Questo è esclusivamente della scuola. Ci possono entrare soltanto docenti e i docenti possono invitare i propri studenti all'interno della scuola. Il professor Giuseppe D'Angela, CPA, corsi serali dell'Istituto Righi. Il suo intervento sui mondi virtuali, una realtà che 30 anni fa non si osava neanche immaginare. Sì, da qualche anno l'Indire, quindi del MIUR, ha istituito questa nuova piattaforma, una piattaforma che si chiama Edmondo, è un mondo virtuale dove docenti e studenti possono entrare, un mondo protetto dove soltanto loro possono entrarci ed effettuare delle vere e proprie lezioni in 3D. Cosa si fa in Edmondo? Ci si incontra e gli studenti di Taranto possono incontrare gli altri studenti di tutta Italia, di ogni ordine e grado. E così anche i docenti. Si organizzano corsi di inglese oppure delle vere e proprie costruzioni in 3D, di ricostruzioni, per esempio, di città che ormai sono scomparse, ambientazioni, lezioni di italiano, di geografia e anche di scienze. All'interno di questo mondo virtuale si entra con un proprio profilo, un avatar, con nome e cognome propri, veri. There is an avatar, name, real name and real surname. We play, we learn, we teach e siamo con loro i protagonisti, gli studenti, che attraverso il gioco imparano, apprendono. E allora, presentatevi, tu sei? Mohamed Sisi. Devi alzare la voce. Mohamed Sisi. Da dove vieni? Gambia. Ecco, questa modalità, questo modo di apprendere ti piace, ti interessa? Ti permette di imparare, di avere contatti con tante persone? Eh, sì, imparare con tante persone, sì. Gli studenti creano la loro storia, la loro lezione, per esempio lezioni di inglese, dove possono essere invitati tutti gli studenti o tutti i docenti di ogni ordine e grado, quindi dalle scuole elementari alle scuole superiori e all'università. Ecco, un altro amico, un altro studente, lui viene dall'Afghanistan. Sì. Sei soddisfatto di questa esperienza? Sì, sì. Non vedi ad alzare la voce, tranquilli. Ti trovi bene con gli altri? Sì, sì, bene. Ti piace anche stare con altri ragazzi? Da quanti anni sei qui? How many years are you here? Three months. Tre mesi. So, it's difficult to learn Italian luggage, but there are no problems. Good luck. Ok, thank you. Buona fortuna. Siamo con Armando Blasi, presidente dell'Associazione Artava, e qui a Palazzo Galeota, nel cuore del Borgo Antico di Taranto, c'è una bella esposizione, appunto, curata, promossa da Artava. Questo evento vostro va, come dire, in parallelo a Braccetto con, appunto, l'evento moltiplicatore, multiplier event, che si sta tenendo su, appunto, con il CPA. E allora, parliamo di questa, chiamiamola sinergia tra i due eventi. Salve a tutti. Il progetto, l'idea di realizzare questo contenitore all'interno del Palazzo Galeota, una tre giorni di eventi culturali, per cui parliamo di musica, parliamo di arte, parliamo di moda, soprattutto perché parliamo del Fashion Weekend 2018, edizione Summer. È un contenitore che ha ospitato con molto piacere questo convegno, anche perché la cultura è veramente a 360 gradi, e poi dimostra l'importanza dell'internazionalità anche dei nostri eventi e dei nostri spazi, come questa splendida location, sicuramente. Esposizioni di artigianato, di artisti e momenti di moda alterneranno questi tre giorni all'interno di questa splendida cornice, che è il Palazzo Galeota. È un modo per far sì che Taranto faccia cultura. Al piano superiore si sta tenendo un evento internazionale, ma queste realtà, queste tradizioni locali fanno crescere il territorio. Siamo ormai in una dimensione multietnica, multiraziale, ed è giusto che Taranto si sprovincializzi e voli alto, guardi lontano, attraverso il volontariato, attraverso l'associazionismo, attraverso le iniziative istituzionali didattiche. Certo, l'associazione culturale Artava sposa a pieno queste iniziative, soprattutto la collaborazione e la rete sul territorio, perché solo facendo rete Taranto può iniziare realmente a respirare aria di cultura, ed è quello che è il nostro spirito fondamentale. E allora siamo proprio a uno dei momenti pratici, i giochi appunto come strumento di apprendimento. We play, we learn e we teach. Magari anche giochi di una volta, giochi che sembrano semplici, che però sviluppano una serie di attività. Qui per esempio si immagino, si potenzino i riflessi e servono anche per riscoprire le nostre tradizioni. Ne parliamo con la professoressa Mercedes Corbelli. Assolutamente sì, dottor Dabate. Effettivamente questo è un gioco che risale in tempi antichi, lontano dal mondo dei videogames. E' un bel gioco semplice, simpatico, pulito, come vede non ci sono ammenicoli di sorta. Molto semplice, tutto in legno con questa corda e i due giocatori si affrontano avendo a disposizione tre pedine a testa. Ovviamente l'abilità visiva e di riflessi, quindi l'abilità anche oculo manuale è la fonte principale del gioco. Dobbiamo cercare di fare gol proprio come in un campo di calcio, non con i piedi ma con le mani e la testa. Ed è importante in questo ambito il discorso della socializzazione. Assolutamente sì, creiamo appunto delle squadre, si potrebbero creare due squadre diverse per poter affrontare. Ma oltre a questo gioco ce ne sono... Ecco, infatti vedo proprio accanto a lei, vedo altri strumenti, manualità. Sì, sempre con la manualità in primi, se ovviamente i riflessi, un po' di forza ci vuole perché c'è l'elastico in questo. Anche qui sono, la fanno da padrone queste piccole pedine di legno che vanno appunto scivolate. Qui ad esempio c'è una pendenza naturale, vede? Qui c'è una pendenza naturale. Potrebbe dare l'idea di un bowling con più entrate. Sì, sì, un bowling, un flipper comunque. Sì, un flipper, ecco, l'antesignano del flipper. Sì, 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 effettivamente anche qua, vede, si sfrutta l'abilità dell'elastico e della molla. Questo anche è un po' più complesso, francamente, fra i diversi giochi proposti. Io vedo questo che è un gioco molto più, ecco, di pazienza. Di capacità mentali dentro. Sì, ci vuole una certa freddezza, ci vuole una certa freddezza nel poter far salire l'anello, quest'anello all'interno del quale c'è una pallina e poi appunto come il flipper. Una volta trovata il punto giusto, la pallina bisogna farla scendere e cade qui all'interno. Siamo in presa diretta, ecco. Ecco qua, ecco, questa è la nostra pallina, dobbiamo tirare qui leggermente. Ovviamente l'occhio la fa da padrone, più saliamo, guardi, più il punteggio, ecco, è caduta, vede? Ci sono varie tacche, 10, 50, più si va in alto e più aumenta il punteggio, diciamo, premiale. Sì, mi devo muovere, questo è anche un buon uso della pazienza. Sai cosa dico? Anche per gli anziani potrebbe essere un ottimo rimedio per potenziare... La mia pallina è caduta. Dicevo, anche per gli anziani potrebbe servire per potenziare i riflessi. Certo, la riscoperta delle nostre tradizioni, penso che le persone anziane... Beh, e allora ci congeliamo da questo momento ludico, 10 secondi ce li dovete concedere. Certamente sì. Io che mi occupo di calcio e della via Juventus, abbiamo un altro. Vediamo un po'. Tiro prima io, me first o you? You? You. Ok. Allora, io il mio primo gol l'ho fatto, vediamo lui. Lui da dove viene? Ecco le varie realtà internazionali che si uniscono, si incrociano. Where do you come from? We are from Turkey. Turchia, quindi. Ecco, la mia ultima opportunità? Niente, sono morta. Ho poca forza? Ha vinto lui. È un modo per sorridere, è un modo per potenziare certe abilità, è un modo per divertirci, io dico con la semplicità. Ed è bello per una volta tanto vedere questi antichi strumenti, oggi è tutto internet, oggi i bambini di 3-4 anni sanno fare quello che noi della vecchia generazione abbiamo imparato con fatica. Però questa riscoperta, questo odore e sapore d'antico ci riempie di gioia e di tradizione. Assolutamente sì, grazie mille. Grazie a voi. Si parla di giochi, ovviamente, e siamo con un esperto del settore Guido Cinieri che è il responsabile per quel che riguarda i giochi delle tradizioni, per le tradizioni del regionale, responsabile regionale della WISP Puglia. Il gioco come momento di incontro, come momento di crescita, per affinare certe capacità mentali ma anche per socializzare. E aggiungerei anche per educare, perché comunque sia attraverso il gioco noi mandiamo dei messaggi, soprattutto ai bambini, partendo dall'età della scuola elementare e andando su. Attraverso il gioco educhiamo, come diceva prima, a socializzare, a imparare e a stare insieme agli altri. Giochi per tutte le età, perché si pensa al gioco, indubbiamente il bambino cresce con il gioco, perché è un modo di formarsi, di apprendere in maniera dolce, in maniera semplice. Ma c'è anche il gioco per gli anziani, che è un momento di socializzazione, un momento di distrazione, un momento di pertenersi attivi. E aggiungerei anche un momento di ritrovo. Il problema degli anziani oggi è un problema molto serio. Si va verso l'isolamento, si va verso un tipo di vita che non considera tanto le esigenze dell'anziano. Per cui le associazioni che noi curiamo, con le quali abbiamo dei rapporti, si occupano di anziani attraverso momenti ludici, che possono essere quelli del gioco delle carte o come può essere il ballo, come può essere qualunque altra attività che li tenga impegnati e che li tenga uniti. Questo è uno degli aspetti fondamentali che viene curato. La dottoressa Lina Arpaia, responsabile dell'Auser territoriale della provincia di Taranto. Qui si sta parlando di giochi, ma i giochi non sono solo per i più piccoli, ma anche per gli anziani. E qui si apre un mare magnum, un discorso molto ampio sugli anziani. Il momento ludico, il momento del gioco come strumento per vivere una vecchiaia felice, serena e per poter stare insieme, per socializzare, per apprezzare la vita. Sì, stamattina è stato molto importante partecipare a questo seminario organizzato dal CPA di Taranto, perché si è messo in evidenza come i giochi, che non riguardano solamente i bambini, ma il gioco riguarda anche gli adulti. E gli adulti con il gioco possono, secondo me, secondo anche i dati scientifici, sviluppare delle potenzialità che l'anziana ancora ha. Quindi mantenere la memoria sempre in allenamento. Naturalmente il gioco non è solamente il gioco da tavolo, oppure solamente il gioco a burraco, ma ci sono tanti giochi, come abbiamo visto stamattina, i giochi di geometria, i giochi di artimetica, i giochi dello stare insieme. Cioè, si sta insieme e si impara, quindi si apprendere, giocando, quindi divertendosi. E, diciamo, questo dovremmo fare nelle nostre associazioni, soprattutto nelle associazioni dove, diciamo, come mission, ci sono gli anziani. Quindi nel Lauser è uno stimolo perché queste cose puoi portarle nell'associazione. Professoressa Capobianco, siamo al momento dei saluti, ma dobbiamo così tracciare un bilancio di questo evento odierno. Una bella partecipazione, tante intelligenze, per una volta tanto la nostra Taranto protagonista in positivo. Non siamo solo la città dell'Ilva, ma siamo un centro di intelligenze e il CPA, in questo senso, ha dato il suo grosso contributo. Ma io credo che questa giornata sia stata una giornata particolarmente coinvolgente. Il convegno, l'evento era numero chiuso, però abbiamo avuto anche degli ospiti straordinari, in più perché ha tirato l'attenzione. Le persone che camminano così nella città vecchia si sono orientate a partecipare. Io credo che Taranto abbia tante possibilità. Quindi non solo un centro di istruzione degli adulti, ma un centro di ricerca, un centro di formazione, un centro che possa coinvolgere tante altre istituzioni. Noi stiamo dando il nostro contributo perché siamo già come sede amministrativa nella città vecchia, all'interno della scuola Consiglio. E crediamo che da qui nasce Taranto, la nuova Taranto. Con la sensazione bella, piacevole, vedevo queste bandierine, ovviamente le bandiere raffiguranti, gli stati, le nazioni coinvolte con i relativi cittadini. E ho pensato, ma finalmente Taranto ha una sua dimensione internazionale. Vedere una città così bella, baciata dal mare, con un borgo antico caratteristico, pur con i tantissimi problemi che abbiamo. E ce ne sono tanti, purtroppo. Però dico, queste iniziative fanno crescere il territorio e danno speranza ai giovani. La speranza è che rimangano qui. Basta con... una volta c'erano appunto le valigie di cartone, oggi ci sono i trolley. Ma bisogna invertire la tendenza e queste iniziative servono a radicarsi sul territorio. Cioè possiamo affermarci come professionisti, ma restando in casa nostra. Ma possiamo vedere che... possiamo fare una lettura di un'altra città, no? La città che offre, la città culturale, la città dalle mille risorse e dalle mille bellezze. Per noi gli eventi Erasmus sono degli eventi che stiamo già mettendo in atto da qualche anno qui su Taroto, da quando è nato il CPA. Anzi, pensate che noi abbiamo quattro progetti Erasmus, di cui uno come coordinatore sulla fotografia, del progetto PIX, progetto triennale, che vede coinvolti altri otto paesi dell'Europa. Poi abbiamo un progetto che si chiama ICON, che ci vede coinvolti in un progetto di formazione dei docenti con tutto il nord Europa, Finlandia, Islanda, Irlanda, cioè il nord del mondo. Poi abbiamo progetti con il sud del mondo, poi abbiamo gli Wayplay, abbiamo ancora un progetto K1 di formazione dei docenti. Quando si vuole si deve progettare e portare dei finanziamenti e dei contributi in questa città. Bene, professoressa, in bocca al lupo e il nostro arrivederci ad altre iniziative. Sicuramente, la ringrazio tantissimo. Una bella multiplier event in Taroto, grazie.